Ciao bambini, sono la maestra Morena e oggi sono a casa della maestra Sabrina nella sua cucina Perché abbiamo pensato di farvi una bella sorpresa Cucineremo insieme una cosa speciale Aspetta Morena, ma prima cosa dobbiamo fare? Hai ragione, sempre sempre ci dobbiamo lavare le mani Ma oggi ancora di più Perché bambini, c'è una brutta bestiolina che si aggira in tutto il mondo E noi la dobbiamo lavare, dobbiamo togliere questa bestiolina cattiva Andiamo Morena? Andiamo, andiamo Andiamo Andiamo, avanti Uno, due Aspetta, chiudiamo l'acqua, se no sprechiamo Oh, brava! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti Oh, come stanno diventando pulite dei miei bambini Ricordatevi bambini, che se avete giocato con la terra Dovete pulire bene bene anche sotto le unghiette Dove si annida lo sporco Perché se volete fare con noi questa ricetta speciale Dovrete diventare dei veri pasticceri Bene bambini, ora che siamo tornati dal bagno Dove ci siamo lavati le mani Quello che vorremmo realizzare assieme con voi è questo Ma Sabrina, cosa ci servirà per realizzare i dolcetti della festa del papà? Per prima cosa, morena, chiamiamo il nostro cameriere di fiducia Che ci porterà tutto ciò che ci serve Battista! Eccolo qui, signora Battista, per piacere, ci porti la bilancia E anche voi bambini Pronti, via con la mamma a preparare la bilancia Certo, grazie Fintanto che Battista va a prendere la bilancia Voi bambini, insieme alla mamma Procuratevi queste cose che serviranno Una ciotola Due cucchiai E poi, questi ingredienti Trecento grammi di biscotti secchi Avete capito? Mamme, avete capito? Pronti? Ok, li avete già preparati Bravissime Duecento grammi di mascarpone Preparato? Magiche, super brave Centocinquanta grammi di zucchero Anche quello già preparato Bravissimi Cento grammi di burro Bravi Cento di cacao amaro E poi Polvere di stelle bianche Sarà una sorpresa A piacere E allora Vai! Ma, ma Battista Dov'è Battista? Battista, ci sei? Vieni, dai I bambini ci aspettano Scusate il ritardo Belle maestre Ecco qua tutto quello che vi serve Vediamo cosa ci ha portato Battista Guarda, Morena Ci ha portato le serviette dei calciatori Mitico! Asciugarci le vai Che bello Che bello E poi tutto lo corrente Cucchiai Le tue ciontole Perfetto Perfetto Noi siamo i due Però Sabrina Non manca qualcosa qui? No Il soldo Battista La bilancia Battista La bilancia Per favore Battista Ah, scusate Eccola L'abbiamo proprio vista Battista Battista Scusate Melle signore Grazie Grazie L'importante è Darsi da fare Cominciare a mescolare Gli ingredienti All'opera E ricordatevi Di spicciolarli Molto molto bene Con questo Bambini Facciamo le cose Più veloci Ma ricordatevi Lo deve usare Solo la mamma Ma quanto bello è Bambini Impastare Dai Impastiamo Assieme Mettiamo Le mani Dentro E Via Che Bello Ti ricordate La polvere magica Di prima Eccola qui E' cocco E vai Nevicata Nevicata Ecco qua I nostri Dolcetti Grazie Bambini Da averli Preparati Insieme A noi Ma Reina Non ti dimentichi Di ringraziare Qualcun altro Hai ragione Battista Ciao Bambini Alla prossima Oi Alla prossima Siamo Dopuh Siamo Grazie a tutti. Grazie a tutti.